I porti nautici nel Golfo di Napoli, passaggi di concorrenti alla gara di sci acquatici e a quella con acquaplani che si sono svolte su di un circuito di 1500 metri perfettamente visibile da via Nazario Sauro per comodità degli spettatori durante la riunione motonautica di propaganda organizzata dal Reggio Club Canottieri Napoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.